Il Berlusconi locale La forza che troviamo dentro ciascuno di noi, la forza della convinzione, la forza delle idee, la forza dell'entusiasmo, la forza della passione, la forza anche collettiva del mettersi insieme, sovvertì qualsiasi pronostico e mi ritrovai prima candidato sindaco poi sindaco. Ho capito che quella forza lì è una forza potente che muove. Quando si muovono le persone l'onda non la contiene più. Diceva Gandhi la forza non deriva da una capacità fisica, la forza deriva da una volontà indomita, da quello che abbiamo nella nostra testa, dalla capacità, dalla tenacia con la quale sappiamo conquistarci i risultati più arditi. Questa è una sfida difficilissima, è una salita ripida. In cima con la salita c'è uno spettacolo bellissimo, c'è lo spettacolo del futuro, c'è lo spettacolo di una fudia straordinaria. La forza della condizione, la forza dell'entusiasmo, la forza della passione, la forza anche collettiva del mettersi insieme.